Occorre correre sul piano vaccinale. Io mi sto dedicando a questo in questi giorni e in queste ore, in contatto con Israele, in contatto con altri paesi europei che stanno procedendo più veloci. Oggi pomeriggio incontrerò una delegazione del governo di San Marino. Prima mettiamo in sicurezza la salute degli italiani, prima torniamo a vivere, a lavorare e ad aprire, quindi bisogna correre su questo.